A inizio ufficialmente la mostra di disegno 2024 dei corsisti di Arte per Te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Benvenuti alla mostra di disegno di Arte per Te. In questo video vedrete un avvicendarsi di opere composte dagli iscritti del corso di disegno di Arte per Te. Prima di cominciare volevo ringraziare tutti i corsisti che quest'anno si sono avvicendati tra i fogli d'album di Arte per Te. E' stato veramente bellissimo vedervi diventare sempre più bravi e sempre più a vostro agio tra i colori, le matite, i gessetti, insomma un tripudio di tecniche che nelle vostre mani stanno via via sempre di più sbocciando. Bravissimi i ragazzi del primo anno che si sono cimentati nel chiaroscuro, bravissimi i ragazzi di secondo anno che per la prima volta hanno adoperato il colore, ma bravissimi anche il terzo, il quarto ed i senior che si sono sbizzarriti con tantissime tecniche da disegno e le tanto temute tecniche miste che hanno saputo gestire in maniera ammirabile. Ma ora basta parlare, tagliamo il nastro virtuale e che inizi la mostra! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!